Ciao, io sono Giovanni Messina e mi occupo, come più volte detto, specie in area di ricerca evolving a Trieste, di sistemi VR, AR e MR, che stanno a Visual, Aumented and Mixed Reality. Bene, prima di andare avanti in questa serie di video lezioni, e visto che stai osservando questo video e probabilmente ancora ti dovrei iscrivere a questo corso, ti consiglio di prenderti un po' di tempo e seguirmi fino alla fine. Prima di iscriverti dovresti porti a mio modo di vedere due domande. La prima, a chi è rivolto questo corso? La seconda, cosa imparerò all'interno di questo corso? Se mi dedicherai il tempo dovuto, te lo spiegherò in modo veloce e sintetico. Riguardo alla prima domanda, cioè a chi è rivolto questo corso, ti dico subito che se sei alle primissime armi, ti direi proprio lascia perdere. Questo corso suppone che tu abbia i concetti basici di Unreal, ma questo prerequisito, diciamo così, è meno fondamentale, cioè riprodurre a video il file è cosa da principianti, basta seguire il video. La più importante invece, esso presuppone che tu sappia già configurare un device per il programmatore, cioè aprire le comunicazioni USB col device, attivare le opzioni sviluppatore e così via. Ad ogni modo, troverai tutorial online, la rete ZEP di questo argomento. Noi tuttavia configureremo il progetto ed installeremo il CodeWorks for Android, indispensabile per la configurazione. La seconda domanda di cui in parte ho già risposto, cioè cosa imparerai? Bene, se mi seguirai, sarei capace di portare all'interno del tuo dispositivo, Oculus, un file architettonico, sempre che, come detto, tu non abbia problemi di configurazione del tuo device. Bene, detto questo, se sei interessato, e solo se lo sei, iscriviti al corso. Ciao!